Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo ed ultimo episodio del campionato Master League leggenda di questa stagione poi devo iniziare la seconda stagione sperando di riuscire ad arrivare in una posizione più alta però prima di fare questo volevo fare delle trattative perché ho visto che negli svincolati c'è sta gente molto interessante tipo Brandt, Javi Martinez, Klosterman, Haaland insomma non ci interessa Hakimi, Matuidi, Gergail, Rashika, Kostic, Meunier, Bakayoko, Gabi Coop Brandt, subito vediamo se viene, ho i miei dubbi addirittura 5 anni 5 anni vai si proviamoci preferisco Matuidi Matuidi sarebbe contento 2 anni ok poi Klosterman l'efenzero centrale che è tanta roba 5 anni anche lui ok ho Haaland per forza Haaland Haaland sarebbe contento anche lui anche lui 5 anni va benissimo e Hakimi e Hakimi Hakimi che ci serve un terzino 5 anni 3 anni go yes vediamo se vengono oh forse ci sono già delle risposte tra te tra te con Brandt abbiamo raggiunto un compromesso Matuidi abbiamo raggiunto un compromesso però se abbiamo raggiunto un compromesso ma Haaland ha rifiutato l'attenzione sulle lunghezze del contratto ha soffretto da molte istanze da quello che il giocatore cercava e Hakimi ha rifiutato Hakimi e Haaland hanno rifiutato porca paletta dai lo prendo vai citiamo Brandt vai Brandt si ok abbiamo fatto l'acquisto del secolo spero andiamo avanti prossima partita cuscita 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 ma vi ricordo che gioco difficoltà leggenda quindi chi conosce PES sa che è molto difficile giocarci non gli ha proprio dato il tempo di ragionare non gli ha proprio dato il tempo di ragionare cuscita cuscita dici e cuscita ma ce lo metto in mezzo maldott in mattina hai gioco stai giocando malissimo Artur cosa? Marko Ney dai Bonzo ma non ci credo mi dovrebbero fuori gioco Musa Musa fermati provo provaci vado è Ponte necce a Ponte ahia ah dai che gol ha fatto questo il mio portiere è proprio bucato questa è una papera ti ha cucciolato questo è il primo tiro che fanno non si può vedere che adriano adriano asci spazio per cercare il barco dai guarda qua con un'apparata si è buona non è aperta ma vaffanculo la casa è buona ma guarda qua palla di nuovo sotto il loro controllo ma è capone chi ha passato c'è boh spazio 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 in questo momento devono prendere dei rischi è necessario assolutamente mi schicchi ma da quest'altro tentativo verso la porta orchi ottima la banca e il fisico e con questo è il pallone barrow tira orca trota vado barrow vado barrow vado non c'è più tempo finisce qui finale di stagione con sconfitto peccato che non ho vinto sarei arrivato sesto ho fatto undici vittorie otto pareggi e undici sconfitte trentasei col fatti trenta subiti trentasei col fatti trentasei col fatti trentasei col fatti trentasei col fatti e di me mi sa che non c'è nessuno giustamente no c'è Ponzio c'è PONZIO prende Ponzio chi si ritira Kushida oggi si conclude la carriera di Kushida quindi lo facciamo giocare dai per la tenuta per la tenuta non sono ora ciao Kushida è stato un piacere non avevo mai giocato e giocherai questa partita dove è Kushida? Kushida il posto di Ponzio ok andiamo Zahari Zahari Zubigny Edei il passaggio non è il passaggio non è non è non è la gara che ci si aspettava Fabio i portieri praticamente tira ma dove va tira ma dove va va dai guarda qui come chiudica guarda qui guarda qui vai ah il passaggio che fanno questo ecco uscita no vuoto il pallone è il pallone filtrante non è riuscito a gol mamma musa però possono portarsi a casa la vittoria squadre che entrano negli spogliatori se la conclusione guarda che gol lo fanno ma come l'ha fatto girare la conclusione la conclusione guarda qua c'è passato avanti c'è passato avanti c'è passato avanti c'è passato avanti eh vabbè ho sbagliato la vittoria nelle loro mani ho sbagliato tira i gol Kiv Quelle mamma Kiv Quelle Kiv Quelle campi a sport Kiv Quelle guarda l'ha infuriato un attimo soltanto oh mamma vabbè che guerra ultima partita sconfitta ciao ci saluta ciao 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 oscar vince il primo golcione dell'annuasia bravo oscar obiettivi di stagione del primo stagione vediamo che ci dice in questa stagione adesso non serve un spettacolo abbiamo raggiunto l'obiettivo siamo sempre apparsi in forma smagliante prevedo grandi cose ma certo un campione di campione con il nostro bla 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 bravo Bruno Enrique ci facciamo 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 subito 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 che anche clausterman ma non c'è un certo termine sì perfetto allora ci riproviamo facciamo così facciamo due anni 1.6 vai dai 1.6 se li merita e provare a prendere pure la Kimi non sarebbe adesso da sferirsi ok si ok raga per questo video è tutto se volete recuperare gli altri episodi vi lascio il link in alto a destra e noi ci vediamo nella prossima stagione sperando di arrivare tra i primi 5 vostri in realtà vorrei vincere il campionato ma dobbiamo vedere come riesco a muovermi nel calciomercato alla prossima ciao 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 ciao